La remunerazione per lo svolgimento delle attività di stoking, la validazione diffusa nell'ambito dei processi blockchain, è da considerare un reddito di capitale, articolo 44 del Tuir, e come tale deve essere tassato alla fonte dal sostituto di imposta, 26%, quando ovviamente il sostituto di imposta c'è, altrimenti lo facciamo in autonomia perché noi siamo in un regime dichiarativo. Non è un reddito diverso, non va ad aliquota marginale e la collaborazione allo stoking non rappresenta un'attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente. Questo è quanto affermato dalla direzione centrale delle piccole e medie imprese dell'Agenzia delle Entrate mediante un lungo interpello, il numero 956-771 del 2022. È quello che dicevo io già da un po', vero? Eh sì. Ancora una volta, di fronte all'inattività del legislatore, l'autorità amministrativa deve intervenire per fare chiarezza e mettere in ordine le problematiche e le questioni sollevate dai contribuenti. Io personalmente mi trovo d'accordo con questa impostazione e se devo spezzare una lancia a mio favore, in tempi non sospetti, perché comunque le live sono tutte presenti su YouTube, già dicevo a tutti di inquadrare le attività di stoking nell'ambito del 26%. Che cosa dicevo io in tutti i miei video? Dicevo ragazzi, mettete lo stoking nella giacenza finale e poi vi tassate il prelievo quando rendete attuali i vostri proventi. E non ad aliquota marginale, come dicevano molti dei miei colleghi, i quali rispetto. Ma quelli sono i più famosi, i migliori del pianeta e io chi sono per aver alzato la manina? Io sono Carlo Alberto Micheli, avvocato e dottore commercialista, creatore del percorso CryptoTax, le tue monete in regola con il fisco. Insieme ai ragazzi di MyAccounting.it abbiamo fatto più di 3.000 consulenze, più di 2.000 dichiarazioni nell'ultimo anno, più di 2.000 sono i membri della mia community, quindi se non l'hai già fatto, questo è il momento non solo di iscriverti al mio canale YouTube, lasciare un like e condividere con gli amici, ma anche di andare a vedere il primo link in descrizione dove ci sono tutte le istruzioni per poter entrare nella community CryptoTax ed essere al sicuro perché ti dico quello che devi sapere per essere in regola fiscalmente e legalmente con le tue monete virtuali. I miei contenuti sono anche sulle principali piattaforme podcast. Ma allora, che cosa dice quest'ultimo interpello? Partito da una startup Umbra, CryptoSmart, una startup attiva su diversi servizi collegati al mondo crypto, dall'exchange ai servizi custodial di wallet e anche lo stocking. Chiedeva appunto come trattare i proventi derivanti da questa attività di validazione convalida. Con quest'ultimo interpello l'Agenzia delle Entrate ripercorre le tappe e ribadisce quanto già abbiamo detto, il tutto a partire dalla causa C26414 della Corte di Giustizia, io ne ho parlato molte volte. Quindi che cosa viene ribadito? La non imponibilità IVA delle operazioni effettuate sulle criptovalute, l'assimilazione delle criptovalute alle valute estere, quantomeno sotto il profilo fiscale, non sotto il profilo giuridico. L'applicazione dell'articolo 67,1 ter per quanto riguarda le cessioni a pronti, la differenza fra cessioni a pronti e cessioni a termine, il concetto di giacenza fiscale di 51.645,69 parametrata al tasso di cambio 1.1, tutte cose che abbiamo costruito e che ha costruito l'autorità amministrativa nel corso degli ultimi 4 anni. E per quanto riguarda lo stocking invece? Mentre la start-up lo andava ad inquadrare come una forma di remunerazione, conseguentemente rientrante nei redditi diversi, l'agenzia li ha qualificati quali redditi di capitale. Secondo la circolare 165e del 98, per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l'esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale. E quindi anche i rapporti che non siano a prestazioni corrispettive, ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione di godimento del capitale ed il reddito conseguito. Quindi non solo i frutti civili dell'articolo 820 del Codice Civile, ma anche tutti quei proventi che trovano fonte in un rapporto che presenti come funzione obiettiva quella di consentire un impiego del capitale. Anche se le parole possono essere complesse, quindi non immediatamente percepibili, va letto tre volte quello che scrive l'agenzia, che cosa dice? Sono redditi di capitale perché impieghiamo un capitale e quindi il provento derivante non è una remunerazione da un reddito diverso con un'attività non occasionale, è un reddito di capitale. Metti quel 26%. Ma io voglio fare un passo in più rispetto allo stocking, ma se vale per lo stocking l'impiego del capitale e lo considero nell'ambito delle attività di validazione, potremmo sbilanciarci e dire anche il mining trattiamolo sempre al 26% oppure no. È un reddito di capitale? Allora a mio avviso, e io sul mining ho fatto diversi video che potete trovare sul mio canale YouTube, per il mining vanno valutati molti parametri e soprattutto va valutata la modalità di esercizio, come si arriva a quel provento. A seconda di questo possiamo sì o no inserirlo nei redditi diversi, nei redditi di impresa o nei redditi di capitale. Decine di clienti che hanno fatto la consulenza con me hanno visto l'applicazione anche del mining, non solo dello stocking, ai redditi di capitale. Dipende dal caso particolare che un professionista crypto tax può inquadrarti. E ultima domanda, ma il 26%, questo imposto del 26%, ogni anno si fa il conto di quanto abbiamo percepito dall'attività di stocking e calcoliamo il 26% e paghiamo oppure solamente quando c'è il prelievo. Anche qui voi conoscete la mia posizione. La mia posizione è si applicano le tasse quando un reddito è certo attuale ed effettivo. Quindi che cosa dico io da due anni? Io dico ai proventi di attività di stocking li metterai nella giacenza finale, aumenteranno il valore della tua giacenza finale e nel momento in cui prelevi questi soldi, quindi diventano attuali, te li porti sul conto corrente o li spendi con la carta, in quel momento applicherà l'imposto al 26%. Ma anche questo dipende dalle circostanze, bisogna analizzare il caso concreto per capire se effettivamente è più difendibile quella o l'altra posizione. Io vi ho dato la mia posizione, no? Qualora intervenissero delle modifiche o delle aggiornamenti da parte del legislatore o da parte dell'autorità amministrativa, io sono qui e sono pronto anche a modificare, aggiornare, prendere una nuova posizione. Ma ad oggi le fonti che abbiamo questo ci dicono. Perché io sono io e gli altri, gli altri sono i più famosi e i migliori del pianeta. Ah ma se lo sono detti da soli? Ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!